Ieri a stilo la celebrazione della giornata dell'Epifania, uvattissimo, la tradizionale festa della teofonia che ha origini bizantine, con il bambinello Gesù in processione, in segno di benedizione, in tutta l'area della grande fiera che si snoda tra piazza San Francesco, il corso principale e piazza San Giovanni Terestis. Tradizione che rimane salda da secoli e in questo giorno della fiera, detta Fiera Forta, Fiera Forte o Grande, il bambinello, partendo dalla chiesa di San Giovanni, viene portato in segno di benedizione, come detto, tra le bancherelle dell'Arci Confraternita dell'Immacolata e di San Pietro, unica congrega tuttora esistente a stilo ed anche la più antica, che risale al 1604. Il bambinello è una piccola statua in legno del secolo XVIII, dipinta tutto tondo, vestito, secondo la tradizione catalana. A quale siete usciti stamattina? Alle 10 e un quarto. Questa è la congrega? Immacolata di San Pietro di Stilo. Ecco, è l'unica congrega che è rimasta. Quindi state dove? Logisticamente state a San Giovanni. Quella del 6 gennaio è una delle feste liturgiche più importanti della chiesa latina, ma anche di quella orientale. E a stilo questa festa ha origini già in epoca bizantina, medievale. Abbiamo infatti una testimonianza diretta che troviamo all'interno della Cattolica di Stilo, dove sulla colonna di destra appena all'entrata c'è questa croce gemmata, scolpita sul fusto della colonna, che riporta appunto il salmo della teofania o dell'epifania appunto, che secondo una serie di studi condotti dal bizantinista André Ghijou e poi dal compianto professore Filippo Burgarella, si tratterebbe appunto del salmo non del 118 ma del 117, del salmo in ebraico appunto sulla teofania di Cristo. Teofania intesa come manifestazione di Dio agli uomini. Nella nottata tra il 6 e il 7, perciò dopo secoli, ritornano a stilo le celebrazioni tra l'eprifania e il Natale. Ieri notte infatti le funzioni ortodosse al monastero di San Giovanni il Nuovo, fino a mezzanotte per la nascita di Gesù. Il Natale viene celebrato dalle chiese ortodosse appunto in un periodo successivo a quello nostro, cattolico, anche perché loro seguono il calendario giuliano e non il calendario gregoriano. Per quanto riguarda stilo, invece, il 6 gennaio, noi abbiamo questo prosieguo della festa, già in epoca moderna, quindi dal 1500 al 1600, abbiamo dei documenti che parlano di questa fiera del battesimo, appunto della manifestazione del Cristo bambino, il quale ancora oggi, dopo mille anni, viene portato in processione dai membri dell'arci confraternita dell'Immacolata della San Pietro, che è una delle confraternite più antiche della Calabria. Oggi, 7 gennaio, nella città del filosofo Tommaso Campanella, si cebbra il Natale e si spata anche l'antico detto, l'epifania, tutte le feste porta via, perché non trova riscontro nell'antica città bizantina di stilo. Una nottata, dice padre Nilo Vatopedino del monastero ortodosso, che segna il passaggio dal 6 al 7 gennaio, in cui i fedeli ortodossi sdravi accorrono a stilo per celebrare nel San Giovanni Nuovo la Natività di Cristo, in conformità al calendario giuliano, secondo il quale il 25 dicembre corrisponde al 7 gennaio del calendario gregoriano. Per i cattolici e i protestanti, anche gli ortodossi creci, i romeni, i bulgari e i arabi hanno recepito la riforma del calendario introdotta nel XVI secolo dal Papa Gregorio XIII. A tutt'oggi, i patriarcati ortodossi di Gerosalermo, Russia, Serbia e Georgia, oltre alla Repubblica Monastica del Monte Ados, continuano a celebrare le feste fisse del calendario ecclesiastico come, secondo il computo, Giuliano. Tutte le 14 chiese autocefale, costitutive della chiesa ortodossa, conclude Padre Nilo, restano però unite nel celebrare, nella stessa domenica, la Pasqua, in quest'anno 2020, il 19 aprile, la domenica successiva alla Pasqua della Chiesa Cattolica. Le comunità ortodosse di stila di Bivongi riportano così, con queste celebrazioni, la vallata stilaro alle tradizioni bizantine che da tempo si erano perse. Grazie.